A noi del tuo ex fidanzato non c'è una fotta proprio! Ma anche perché non c'è l'uno? No, anche perché se vogliamo parlare un minuto di ogni tuo fidanzato facciamo notte qua, che sia la verità! Allora noi vogliamo sapere, tu hai un figlio segreto? No, guarda! Un padre segreto? No, no! Un fratello segreto? No! Una zina, una nonna, una cugina? No, tutti palesi! La madre? La mamma super presente e palese! Infatti era meglio se rimanere segrete, tua mamma! Senti Giulia, tu sei ragnana! Esatto, ma non vorrei che si vedesse la vagina in questo momento! Ma tu ti pazzi? Come facciamo uno scoop se si vede la vagina? Che stai scema? Che sei venuta a fare allora? Tu sei ragnana e sei molto impegnata, io lo so che tu sei esposta per il tuo paese e anche io stasera mi voglio esporre! Lo dico pubblicamente, lo voglio dire, l'Italia agli italiani e l'Irania agli iraniani! Questo sia chiaro! Allora Giulia, proprio perché sei impegnata nel sociale, so anche che sei molto, diciamo, impegnata per i problemi di noi donne! Esatto! Io mi batto in prima linea! Lo so, lo so, lo sappiamo che tu ti batti! Ehi, hai problemi delle donne! Giulietta! Non riusci male! Fai finta? O si chiama veramente!